Ho voluto creare questa associazione tra grandi quantità di dati e soggetti a cui noi li destiniamo, che sono i bambini, per evidenziare come proprio in campo pediatrico poter disporre di grandi quantità di dati può aiutare a raggiungere delle evidenze, cioè dei risultati clinici, sperimentali, terapeutici, che altrimenti ci richiederebbero lunghe e complesse procedure di sperimentazione direttamente sui bambini. E questo è ormai un sistema che si sta affermando in tutto il mondo, in associazione col concetto che laddove i bambini sono pochi e dobbiamo risparmiarli, è necessario metterci insieme in tanti e quindi il nostro big data si lega alla creazione di grandi network di ricerca. Questi grandi network di ricerca sono ormai localizzati nel mondo, nemmeno più in un paese o in Europa, e ci consentono di funzionare insieme soltanto nel momento in cui riusciamo a legarci, clinici, sperimentatori, ricercatori con tutte le altre expertise necessarie, quindi gli informatici, quindi gli statistici, quindi le aziende che devono fornirci gli strumenti per mettere a valore questa nostra esperienza.